Dopo la sofferta ed importante vittoria nel turno infrasettimanale ad Olbia, il Valle Soverato torna al Palascoppa per affrontare domenica 3 dicembre un avversario ostico come l'Olimpia Teodora Ravenna. Siamo con Giorgia Cafforio che è una delle protagoniste della partita di mercoledì scorso, primato solitario conquistato. Domenica una partita importante alla luce anche delle ultime prestazioni in casa dove avete sofferto. Sì, veniamo da una partita faticosa quella che abbiamo effettuato ad Olbia, non è stata una partita facile perché loro c'è da riconoscere che hanno fatto una bellissima partita, noi non tanto però qui è venuta fuori la squadra che nei momenti decisivi dei set è riuscita nonostante le difficoltà a portare a casa tre punti fondamentali soprattutto per la classifica. Domenica incontriamo una squadra ostica, è un bel roster e indubbiamente non sarà facile affrontarla soprattutto visto e considerato che questo campionato già lo sappiamo, è un campionato abbastanza equilibrato. Noi ci metteremo tutto l'impegno e soprattutto dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono fino adesso e soprattutto siamo la prima in classifica e dobbiamo dimostrare di essere tale. Ecco, una squadra che pur soffrendo dimostra anche di essere una squadra consapevole dei propri mezzi perché anche nei momenti di difficoltà non perde la calma prerogativa delle squadre importanti questa. Sì, sapevamo che Olbia era una squadra che voleva fare risultato e comunque voleva toglierci qualche punto. Non è stata una partita facile, sapevamo che il campo non era facile però abbiamo dimostrato che nonostante le difficoltà siamo riuscite ad uscire da delle situazioni non felicissime e soprattutto che siamo rimasti attaccati a fine sette su ogni pallone nonostante non avessimo fatto una bella prestazione. Coach Barbieri, domenica alla Palascope il Vole Soverato ospita Olimpia Teodora Ravenna. Una squadra ostica, neopromossa sì, ma con delle giocatrici importanti nel suo roster di grande esperienza. Una squadra che vanta lo stesso numero di partite del Vole Soverato avendo già osservato il proprio turno di riposo. 18 punti in classifica, reduce da una bella partita mercoledì a Mondovì dove ha perso Altaiber che ha conquistato quindi anche un punto. Sì, devo dire che è un'ottima squadra, conosco molto bene alcune delle giocatrici anche perché le ho allenate e ne approfitterò per salutarle. Sicuramente è una squadra che può puntare alla vittoria del campionato. A giocatrici di grande esperienza, di grande qualità, noi di questo ne siamo consapevoli e dovremmo essere sicuramente molto attenti, però consapevoli comunque dei nostri mezzi che sono altrettanto importanti. Mercoledì c'è stato il turno infrasettimanale, è arrivata un'importantissima vittoria del Vole Soverato ad Olbi alla luce anche di come è maturata un'altra partita sofferta ma un'altra vittoria del Vole Soverato che nei momenti topici dei set, così come aveva fatto vedere nelle precedenti partite, è riuscito a spuntarla. Sì, lì siamo partiti un po' disorientati perché non ci aspettavamo la Muresan in campo. Finora non aveva ancora giocato e allora ha sostituito la SOS e lì ci abbiamo messo forse un po' troppo tempo a prendere le misure su una giocatrice che non avevamo studiato. Dopodiché, questo è vero, abbiamo dimostrato l'ennesima volta che quando arriviamo alle palle che contano sicuramente non ci viene il braccino e questo è qualcosa di importante per la squadra è un aspetto che comunque più si va avanti e più sarà determinante. È una squadra che dimostra anche alla luce dei risultati, di come sono maturati, grande carattere e questo sarà sicuramente un elemento importante anche per le prossime gare perché adesso si è partiti con un tour de force di partite, ci sarà poco tempo per allenarsi perché bisognerà preparare subito la partita successiva. Sì, la settimana prossima c'è l'infrasettimanale, perciò sappiamo che sarà dura. Come abbiamo già detto, è importante sempre l'utilizzo della panchina che con noi si è fatta trovare pronta nei momenti anche topici del match e dobbiamo continuare su questa strada perché la classifica è veramente corta e bastano una partita o due partite per cambiare veramente i valori e le posizioni. Perciò lavoriamo bene, lavoriamo con pazienza e a mio avviso poi se si rimane lucidi nei momenti topici e quando ci sono molte partite saremo pronti.